Com'è questo TG Trepa? Doppio Doppio Certo, chiodi con questa musica ci sta bene Certo, chiodi con questa musica ci sta bene Di 59 anni, tranquillo Elton John ha sempre dichiarato di essersi ispirato Allora, tutta la sua carriera E' sicuramente apposto Uno dei suoi grandi temi A proposito dell'innocenza Lorenzo Cesare sta parlando di Morricone In questo momento E' forte perché Potrebbe stare a dire lui